Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo del Sunto 5 Peak, un orologio che mi è piaciuto abbastanza per il prezzo, per il suo peso veramente leggero e perché può essere un buon orologio per chi inizia nel mondo della corsa, del trail, magari non del trekking però. Ma vediamolo subito nella recensione completa. Iniziamo la recensione partendo dai punti positivi che più mi sono piaciuti. Il primo, la costruzione. È un orologio fatto bene, resistente, piccolino, questo non mi dispiace per nulla perché io arrivando dal Fenix 7X che è enorme, questo orologio qua l'ho tenuto al polso con molta soddisfazione perché è piccolo, leggerissimo, lo si tiene su anche di notte e non disturba. Che dire, il cinturino fatto molto bene, mi ci sono trovato davvero bene a tenere dal polso e come modello potrebbe andar bene anche per una donna perché è veramente molto piccolo. Lo schermo va bene anche se potrebbe essere un pochino meglio soprattutto per le cornici, non è sfruttato al pieno lo spazio ma troviamo uno schermo da poco più di un pollice, molto definito perché comunque anche se andiamo a mettere quattro campi all'interno dell'orologio lì si vede molto bene. È un orologio diciamo che va da sodo, che non ha mille fronzoli, che ha solo tasti fisici per poterlo controllare, non ha alta screen ed un orologio che sicuramente vi potrà accompagnare negli anni perché visto i materiali durerà sicuramente a lungo. Secondo punto positivo, le funzioni smart. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di uno sport watch, però per essere uno sport watch ha delle funzioni smart necessarie. Possibilità di rispondere ai messaggi con messaggi preimpostati su Android, non su iOS. Possibilità di andare soprattutto a controllare la musica. Possibilità che ritengo sempre molto importante di inserire all'interno tracce provenienti da applicazioni esterne come Komut e Strava. Non abbiamo purtroppo l'NFC per esempio o collegamenti con assistenti vocali, però vabbè sono funzioni smart, fin troppo smart diciamo per uno sport watch. È un orologio che anche dal punto di vista smart mi è piaciuto, anche se aggiungerei la possibilità di eliminare il suono quando non ho l'orologio al polso. Questo qua purtroppo, questo orologio non capisce se ce l'ho al polso o no e anche se non ho l'orologio al polso lui suona quando mi arriva la notifica e soprattutto di notte questo potrebbe dare un po' fastidio. Terzo punto, la batteria. È un orologio super piccolo come vi ho già detto, ma la batteria non è male, dura all'incirca sulle 16 ore di registrazione con più o meno tutto attivo. E mi piace perché comunque è un orologio pensato per una persona che va a fare escursioni o comunque cose giornaliere, non va oltre le 24 ore. Quindi 16 ore basta e avanza per questo tipo di orologio. Se invece andiamo a utilizzarlo saltuariamente con 2-3 ore di allenamento al giorno, più o meno tiriamo i 4 giorni, 3-4 giorni prima di doverlo ricaricare. Quindi viste soprattutto le dimensioni, la batteria mi ha convinto. Passiamo ora a parlare dei sensori e qui iniziamo anche con i punti negativi. Ci sono dei sensori che mi sono piaciuti. L'altimetro, super preciso, davvero preciso praticamente al metro. Questo qua non ha il barometro all'interno, però l'altimetro è veramente super preciso. Io l'ho confrontato con il mio Fenix che ha all'interno il barometro, l'ho confrontato con le altezze riportate da cartine escursionistiche e davvero ci azzeccava al metro. Da questo punto di vista l'altimetro è fatto veramente molto bene. GPS. GPS bene e male? Bene quando siamo all'aria aperta, senza nulla attorno, senza alberi, senza edifici, eccetera. Male quando iniziamo ad andare sotto alberi, edifici, proprio la traccia si perde molto, sbaglia anche di parecchi metri. Da questo punto di vista mi sarei aspettato un pochino di più, anche per quanto riguarda il sensore al polso. Confrontato con una fascia cardio sballa, sballa tantissimo, soprattutto se andiamo a fare attività dove c'è un continuo stagli e scendi della frequenza cardiaca. Tutti questi sensori però vanno a darci abbastanza informazioni. Non abbiamo informazioni come può essere il train effects, il body battery e via dicendo, ma comunque troviamo uno stato di forma, troviamo una previsione sul tempo di gara, troviamo come abbiamo dormito la notte, anche se non in modo esaustivo, nel senso non vediamo la divisione tra fase REM e fase di sonno leggero durante la nostra notte, ma troviamo semplicemente una cosa a larghe spanne. Che dire, comunque a mio parere per chi è pensato questo orologio, quindi delle persone che si avvicinano a questo mondo, può bastare per migliorare e avere un'idea di come stiamo lavorando con il nostro corpo. E continuando con i punti negativi, una cosa che non mi è piaciuta è la navigazione. Sinceramente a me la navigazione dove devo andare a seguire una traccia, cioè una linea, senza aver nessun punto di riferimento, la trovo praticamente inutile. La trovo inutile perché l'unica cosa che può tornare minimamente utile è se dovesse avere una svolta a destra o a sinistra secca. Allora a quel punto capirei che devo svoltare a destra perché lo vedo anche qua. Ma per il resto, davvero, io la trovo praticamente inutile. Anche perché avendo un GPS che sotto gli alberi non funziona bene, risulta anche sballata. Altro punto negativo che non mi è piaciuto è il software. Secondo me questo software è abbastanza vecchio. Nella grafica, nel modo in cui è pensato, mi sarebbe piaciuto anche una personalizzazione maggiore. Ci sono cose che mi sarebbe piaciuto personalizzare, tipo la retroilluminazione, ma non si può. Posso solo decidere se sia acceso o spenta. E che dire, penso che Sunto con i prossimi modelli dovrebbe fare un upgrade del software perché è davvero datato confronto ai competitor. Perciò, tiriamo le conclusioni. Vi consiglio questo orologio. Ad oggi costa più o meno tra i 250 e i 300 euro. Dipende i siti dove li troviamo, online i prezzi possono cambiare. È un orologio che secondo me va bene chi si avvicina al mondo del fitness. È un orologio che io personalmente ho utilizzato per il trekking e il trail running. Ci sono trovato anche abbastanza bene, soprattutto visto l'altimetro. Però non pensate di utilizzarlo come orologio per la navigazione perché lì non va per nulla bene. Io ve lo consiglio, soprattutto per le dimensioni, perché chi arriva a questo mondo non vuole delle patacche enormi che gli darebbero fastidio a tenere dal polso. Secondo me ne vale l'acquisto, dai. Ha un orologio fatto bene, mi è piaciuto e ve lo consiglio. Detto ciò ragazzi, in speranza di essere stato esaurante e esaurante anche per questo video. Io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!